Francesco De Rebotti, Presidente Anci Umbria, un anno di Anci, un bilancio importante, quest'anno tanti comuni, tante le attività, no Presidente? Tante le attività, tanti i problemi di interesse di Anci Umbria, così come sono gli stessi di Anci Nazionale, soprattutto nel confronto con un governo che si è insediato da poco e su cui ci siamo dovuti cimentare in alcuni passaggi fondamentali, il primo quello riconducibile all'eliminazione che poi è stata ripristinata fortunatamente delle risorse del bando periferie che riguardano le città capoluogo della regione, Verugia e Terni in particolare, ovviamente essere riusciti a rimettere in carreggiata questi finanziamenti, 30 milioni complessivi per l'Umbria rappresentano un caposaldo sia in termini di investimento per le nostre aziende ma soprattutto sui temi della sicurezza urbana, della riqualificazione delle periferie di due grandi città su cui spesso si aggregano fenomeni degenerativi e quindi la riqualificazione delle periferie ha anche un carattere sociale importante perché rimette a disposizione patrimonio pubblico, funzioni sociali, funzioni di comunità che sono indispensabili. Un altro elemento di grande preoccupazione che invece continua ad essere permanente è quella relativa al decreto sicurezza che è stato approvato qualche giorno fa in Parlamento su cui è stata posta la fiducia e questo ha eliminato qualsiasi possibilità di dibattito e vi comprese le osservazioni, le indicazioni, le preoccupazioni, le chiamerei dei sindaci e dei comuni rispetto ad un fenomeno che anche in questi giorni sta producendo un elemento negativo, risultato negativo, ovvero la fuoriuscita di diversi soggetti dai programmi di accoglienza e di integrazione dagli SPRAR, soggetti che avevano avuto il riconoscimento di protezione umanitaria che rischiano di rimanere per strada e quindi essere soggetti che richiedono comunque un servizio sanitario e sociale a scapito sulle spalle dei nostri comuni e delle nostre comunità e rischiano di rappresentare potenzialmente una mano d'opera per la criminalità organizzata che in questo grigio, in questo anonimato degli diversi soggetti che sono espulsi da questo sistema di accoglienza può trovare terreno fertile. Queste erano le preoccupazioni che hanno a che fare prettamente con un risultato che sui territori si hanno quindi non hanno natura politica ma soltanto gestionale visto che i comuni e i sindaci in particolare hanno una responsabilità insieme ai prefetti importante su questo tema. Sono soggetti che tra l'altro non possono essere neanche riportati in patria velocemente perché sappiamo che il sistema dei rimpatri purtroppo non dà quei risultati che magari sono attesi. Questo è un problema che rimane aperto in Umbria nel paese su cui spero ci sia la possibilità di tornare perché questo sistema così concepito non va bene e questa è un'opinione comune dei sindaci dell'Umbria a prescindere dalle appartenenze politiche perché noi abbiamo a che fare soltanto con gli effetti delle scelte che vengono prese non partecipando spesso al concepimento delle scelte che invece sarebbero utile la voce dei sindaci e delle istituzioni locali perché fino a prova contaria le istituzioni locali nella nostra Costituzione così come gli altri organismi hanno pari dignità e dovrebbero avere pari trattamento. L'Anci Umbria si è caratterizzata in questi ultimi tempi per una mole notevole di progetti su diversi settori che riguardano in particolare anche la sicurezza e la protezione civile con la nostra associazione Anci Prociv che trova finalmente anche una prospettiva salda nei rapporti con la regione che ha riconosciuto il ruolo fondamentale che questa associazione Anci Prociv mette a disposizione dei comuni stessi nella programmazione sugli interventi sulla sicurezza quindi nei piani di protezione civile, sul tema della formazione degli operatori, sul tema della comunicazione ai cittadini, un ruolo che sarà più solido e avrà una prospettiva più certa grazie al contributo della regione e all'accordo firmato pochi giorni fa a Bastia Fiere quando si è fatto il punto della situazione. Questo è un riconoscimento importante di cui ringrazio la regione dell'Umbria e saremo sempre accanto con questa strumentazione in tutte le opere che riguardano l'assistenza ai nostri cittadini sia in tempi di pace sia in tempi purtroppo di guerra perché abbiamo dimostrato nei fenomeni sismici che hanno caratterizzato la nostra regione una capacità di mobilitazione, di assistenza e di supporto agli organismi regionali importanti di cui andiamo orgogliosi. Silvio Ranieri, direttore Anci Umbria, bilancio annuale, insomma siamo arrivati a fine anno tante le attività dell'Anci, è il momento per trarre un po' le somme, no direttore? Assolutamente sì, siamo contenti per l'attività svolta e dal punto di vista tecnico siamo gratificati anche del consenso da parte delle comuni, noi facciamo un'attività di assistenza, un'assistenza che intesa sia un'assistenza tecnica perché noi abbiamo l'opportunità di presentare progetti che vanno sia sui bandi europei e con i bandi nazionali. Solo quest'anno sono stati finanziati 9 progetti su 14 e questo ci consente di allargare anche la nostra rete, avere rapporti con regioni, prefetture, questier, mondo delle cooperative e anche associazioni industriali. Dall'altro tipo di assistenza noi attraverso i nostri professionisti elaboriamo anche disegni, leggi, pareri presentati dalla regione o dal consiglio dell'autonomia locale. Poi facciamo un'attività importante, diciamo nuova negli ultimi due anni, supporto al servizio civile, un'attività che ci chiedono i comuni perché è un'attività impegnativa, perché noi facciamo progetti, monitoraggio, formazione e una richiesta perché i comuni utilizzano questi ragazzi da 18 e 30 anni in un'attività che è utile per il comune ma soprattutto utile anche per i ragazzi perché per la prima volta incominciano ad andare nel mondo del lavoro e è stato valutato che il 30% dei ragazzi che fanno il servizio civile dopo questa esperienza hanno anche opportunità di trovare lavoro. Accanto a questo il servizio civile diciamo in maniera trasversale facciamo formazione. Il prossimo anno organizziamo una formazione diretta alle scuole, lo 06, e abbiamo già iscritti mille fra docenti ed educatori. E poi facciamo anche un'attività di formazione inerente all'attività di protezione civile e tramite anche quelle che sono diciamo le nostre sorelle che sono Federsanità, Felcos, Anci, Umbria, Prociv facciamo con la prima un'attività a sostegno in materia socio-sanitaria. Per quanto riguarda Anci, Prociv in materia di protezione civile dove abbiamo le consulenze che intervengono direttamente nei territori e tramite Felcos invece facciamo attività di cooperazione decentrata. Anche là in questo caso abbiamo due progetti finanziati dal Ministero degli Interni, uno sulla Palestina e uno sulla Bolivia.